Voglia di un vero momento di dolcezza. Per tutta la famiglia, Garnier crea il più dolce tra gli ultradolce. La formula ai fiori di loto protegge e la mandorla addolcisce, senza parabeni né siliconi. I capelli sono soffici e brillanti. Anche quelli più delicati, biodegradabili al 97%, rispetta il pianeta e i capelli. Garnier Ultradolce ha la mandorla ai fiori di loto. Prenditi cura di te. Garnier. Garnier.